La prima celebrazione di Papa Francesco nel suo viaggio in Turchia è stata la messa interrituale preseduta nel primo pomeriggio di sabato nella Cattedrale Cattolica dello Spirito Santo di Istanbul. Accolto dal vicario apostolico Monsignor Luis Pelatr e dal parroco Don Nicola, il pontefice ha concelebrato con il patriarca siro-cattolico Ignazio III Yunan per la piccola comunità cattolica turca, alla presenza del patriarca ecumenico Bartolomeo I, del vicario patriarcale armeno-apostolico di Istanbul, del metropolita siro-ortodosso e di esponenti delle comunità protestanti. Nell'Omelia il Papa si è rivolto ai fedeli cattolici dei quattro riti ricordando che lo Spirito Santo è l'anima della Chiesa e suscita i differenti carismi. Questo apparentemente sembra creare disordine, in realtà è un'immensa ricchezza perché lo Spirito Santo è lo Spirito di unità che non significa uniformità. Solo lo Spirito Santo può suscitare la diversità, la moltiplicità e nello stesso tempo operare l'unità. Quando siamo noi a voler fare la diversità e ci chiudiamo nei nostri particolarismi ed esclusivismi, portiamo la divisione. E quando siamo noi a voler fare l'unità secondo i nostri disegni umani, finiamo per portare l'uniformità e l'omologazione. Se invece ci lasciamo guidare dallo Spirito, la ricchezza, la varietà, la diversità non diventano mai conflitto perché Egli ci spinge a vivere la varietà nella comunione, nella Chiesa. Nel nostro cammino di fede e di vita fraterna, ha concluso Papa Francesco, più ci lasceremo guidare con umiltà dallo Spirito del Signore, più supereremo le incomprensioni, le divisioni, le controversie e saremo segno credibile di unità e di pace.